Lui con la sua CPU ARM11 da 434 MHz gira ancora benissimo e ha soltanto 128 MB di memoria, seppur espandibile interna. E la RAM? Beh, ma all'epoca non si parlava di RAM, ma ancora ad oggi risulta essere un cararmato e un telefono funzionante al 100%. Beh sì, ha perso alcune cose, non è più attuale per certi versi, ma la accendiamo e vi faccio vedere come va. Anzi, una retroecensione. Il design iconico, soprattutto del posteriore, vi dovrebbe far riconoscere immediatamente. Quest'oggi sotto la nostra lente abbiamo una retroprova del Nokia N86, uno smartphone abbastanza famoso di casa Nokia, uscito nel giugno del 2009. Perché ho deciso di fare questa retroprova? Beh, perché l'ho deciso di portare sul canale avendolo ritrovato nel cassetto e avendo scoperto che aveva già delle chicche innovative per l'epoca che poi si sono un po' perse nel corso degli anni dei telefoni. Ma veniamo a noi, innanzitutto parliamo delle dimensioni, sono 103 mm per 51,4 o per 16,5 mm di spessore. Veramente non è sottile, ma è veramente ben maneggevole, viste le dimensioni contenute, sta nel palmo di una mano, guardate, è veramente comodo da tenere in mano. Meccanismo a slider con tutto vetro e metallo da parte superiore, mentre la parte inferiore interamente di plastica. Meccanismo ancora ad oggi molto molto resistente, non ha giochi, non ha nessun problema, ma qual è la particolarità di questo device? Che si poteva aprire in modalità cinema, semplicemente facendo scorrere. Qui troviamo i controlli multimediali, ma al posteriore, con questa bellissima cover, bastava semplicemente alzare questa linguetta e si poteva appoggiare il telefono per vedere i nostri contenuti multimediali, veramente incredibili. Nonostante i suoi 12 anni non ha alcun segno il display. E sì, perché all'epoca non si usavano le bellicole, ma i telefoni si usavano così come erano. È uno dei primi telefoni a montare una memoria espandibile da ben 8 GB con microSD, una cosa veramente incredibile per l'epoca, ed eccolo qua in tutta la sua bellezza. Come vedete, il menu a slider col sistema operativo Symbian S60, eccolo qua, ormai iconico di Nokia. E devo dire che regalava veramente tantissime emozioni. Quindi abbiamo detto, ambiente Symbian 9.3 S60, compatto, schermo che resiste a qualsiasi cosa, bello la luminosità, si vede bene sotto al sole, ed è uno schermo AM OLED. Peccato per la risoluzione, perché è solamente 340x320 pixel, ed è un 2,6 pollici. Quale è la particolarità di questo telefono? Beh, aveva un GPS che prendeva benissimo e soprattutto il comparto fotocamera, dotato di dual flash LED, una fotocamera da 8 megapixel, nascosta dietro lo sportellino, ecco qua come potete vedere, con autofocus, che registrava video fino a 480p. Quindi, foto da 8 megapixel, come abbiamo detto, con tanto di autofocus e un po' di stabilizzazione, non è affatto male. Aveva anche la cam frontale, veramente di bassissima risoluzione, ma che regisse a scattafoto, regisse a video, ma i video sono sensuali, quindi una cosa veramente anacronistica ormai. Mentre qui troviamo il sensore di vicinanza, di prossimità per quando facciamo le chiamate e anche il sensore di luminosità del display. Un'altra cosa veramente interessante, che già aveva all'epoca, che a me è sempre fatto impazzire, lo slider, quello che adesso va tanto di moda sui OnePlus, già c'è all'epoca per bloccare e sbloccare la tastiera. Mentre sul lato destro troviamo il tasto del volume per alzarlo e abbassarlo, per usare un minimo di zoom nella fotocamma e il pulsante di scatto a doppia corsa. E cosa sono queste riferitorie? Beh, questa è la parte veramente interessante. Era pensato per essere messo in questa posizione, quindi appoggiato, e qui in alto abbiamo due speaker che sono veramente potentissimi. Vado sotto le suonerie, così ve le faccio vedere, modo d'uso, selezioniamo normale, scusate, offline, perché senza la sim non si può mettere in modalità normale, tono di chiamata e vi faccio sentire. Sentite che volume. Insomma, iconica, veramente iconica, la musicretta Nokia che ha segnato un'epoca. La batteria al suo interno è una batteria remoribile, perché come tutti i Nokia di quell'epoca la scocca si poteva aprire. Eccola qua, troviamo i due contatti per il GPS che si andavano a inserire qua, dove erano le antenne. Anche il Wi-Fi, qui la sim in versione normale, mentre qui possiamo trovare lo slot per la microSD. Ovviamente è un telefono all'avanguardia per l'epoca, è accorazzato, seppur non impermeabile, non si parlava di certificazioni. Funzionava benissimo e la cosa che veramente mi è sempre piaciuta, permetteva di trasferire i file attraverso il Bluetooth. Ma andiamo direttamente sotto la videocamera e vi faccio vedere. Guardate le impostazioni, lo scatto con la messa a fuoco. Prima corsa messa a fuoco, poi premiamo tutto. Ops, scusate, è la modalità video. Quindi cambiamo la modalità, come potete vedere, registra i video. Poi vi lascio un vlog, torniamo indietro su... Far vedere come registra i video. Ecco qua, vedete, mette a fuoco, cita l'ok e scatta. È veramente incredibile, una buona velocità sia di messa a fuoco che di immaginizzazione delle immagini e poi semplicemente attraverso questo slide si poteva entrare nel menu per vedere le foto e fai magari degli zoom. Adesso perché non va? Scusate, devo aver sbagliato qualche cosa. Ecco qua. Vedete, attraverso si poteva zoomare. Diciamo la velocità di render ormai non è più fantasia, ma devo dire, è veramente interessante. Perché ho deciso di portarvi questo telefono? Vi parlavo soprattutto delle innovazioni. Innanzitutto l'audio stereo che era veramente fantastico. Chiaro si sentiva sempre, ovunque, anche in tasca non c'erano problemi, anche giocare, era uno spettacolo, si poteva giocare in questo modo, quindi è anche comodo da impugnare. Ma le innovazioni che più mi hanno impressionato sono per l'appunto quanto riguarda il reparto fotografico. Come potete vedere c'è uno sportelletto che permette ancora tutt'oggi di proteggere il video, quindi la fotocamera non veniva aggraffata e non si rovinava. Il doppio flash LED. L'ha messa a fuoco con tanto di illuminazione laser se noi gestiamo i video, ma vi faccio vedere il dettaglio che a me impressiona. Se noi andiamo ad aprire lo sportellino, guardate, l'avete visto l'otturatore che si apre e si chiude? Quello è veramente una cosa impressionante. Guardate, ve lo faccio vedere, chiudiamo. E c'è lì, vedete, tac, l'otturatore che si apre. Per una doppia protezione anche del sensore, cosa che solamente Samsung poi l'ha importato nei telefoni con la doppia apertura, ma che adesso è stato totalmente abolito. Qui nel 2009 ci sono già veramente parecchie funzioni innovative, ma l'uscita jack, che ormai è un'otopia sui telefoni, aveva anche la funzione di uscita video con un apposito cavo che adesso vi vado a prendere e vi mostro. Qua ho recuperato il cavo, come potete vedere, è un cavo Nokia semplicissimo con jack d'ingresso per lo slot delle cuffie e con i tre jack. Si poteva collegarlo direttamente al televisore, oppure prendendo l'adattatore con la scart e usarlo in modalità video. Veramente fichissimo e all'avanguardia. Cosa che adesso bisogna usare l'adattatore USB-C, se no ci abbiamo messo un po' di anni per ritornare a collegare i telefoni ai televisori in modalità video. Era molto comodo, molto interessante, era già il Wi-Fi e UMTS. La batteria che aveva, è ancora tutt'oggi, una batteria che ancora esiste dopo dieci anni, una durata incredibile. Ve la faccio vedere, guardate quanto è piccola e sottile. Era da ben 1200 mAh e durava, beh, sicuramente quattro giorni di uso intenso. Non più come quelle da adesso. E come fai a dimenticare l'iconico T9 Nokia dei messaggi. Una cosa veramente incredibile, era il miglior T9 che esisteva su piazza, almeno per noi in Italia. Facciamo una prova, bellissimo, guardate come si scrive. E' veramente in un modo incredibile, era molto comodo. Mamma mia, che ricordi, era il miglior T9 che esisteva su piazza. E il dizionario imparava anche, aveva un'intelligenza evoluta. Insomma, scrivere con questo è un piacere. Diciamo che da questo punto di vista mi manca, mi manca. Perché va bene una tastiera coberti, ma questo è enormemente più comodo. Comunque questo Nokia N86 mi sta riportando alla memoria bellissime cose. Veramente incredibili. Aveva una fotocamera a 8 megapixel e addirittura con la stabilizzazione. Wow. E dettaglio non da poco la lucetta del mossa che ci indica che stiamo registrando. Cosa stiamo facendo? Beh, una bellissima torta salata di verdure come primo pranzo di lockdown, anzi nuova zona rossa. Ricotta e spinaci. Mamma mia, con tutto questo vento andiamo a fare una bella corsetta, visto che siamo in zona rossa ne approfittiamo. E intanto mi porto l'enno 86. Vediamo come si comporta. Spero che si senta e soprattutto spero che le riprese non facciano veramente schifo, visto che telefono. An approfittiamo una bella giornata anche per fare qualche foto e per vedere la stabilizzazione. Vai, tutto contro sole. Così vediamo come va la stabilizzazione. Anzi, dobbiamo correre in salita. Dai, dai, dai. Spero che non faccia venire il volto a stomaco. No, e seppur lui è un bel carri armato non è affatto infermiabile. Anche se ha veramente esistito a qualsiasi cosa. Oh, guardate che bello, il panorama. Sicuramente è un telefono senza l'HDR. E però, dovrebbe gestire bene. Insomma, per l'epoca non è affatto male. E per il momento, beh, mi sta molto soddisfacendo. Non mi posso lamentare. E vuol dire che si sente la mancanza della grand'angolare. E poi adesso proviamo a fare una foto e a vedere come viene. Ma attenzione, c'è una da scena che fa il bagno. Non so se riuscite a vederla. Sta facendo il bagno. Facciamo un altro test della messa a fuoco. Io francamente non mi ricordo com'è. Proviamo a fare una messa a fuoco vicino, per vedere come viene. E lontano, vicino. Anzi, basta anche sotto il pontile così siamo coperti dal sole. Lontano, vicino. Tanto sono da sole, c'è un vento bestiale. Bellissimo il kite surf. Mi piacebbe provarlo prima o poi. E adesso, come vedete, dovrebbe essere ben illuminato. Non so cosa si sentiva con questo vento, ma è veramente tantissimo. E adesso, beh, finita la nostra corsa, si rientra. Dai, siamo rientrati. Con le idee, il led rosso che ci dice che sta registrando. Insomma, adesso vediamo come sono le clip. Corsa, solida, promossa. Il ragionamento è il seguente. Come ha fatto Nokia, ma non tanto a fallire. Come hanno fatto i produttori a dimenticarsi delle possibilità che si aveva una volta. E lasciare queste vie di innovazioni e di cose veramente incredibili che portano a Nokia. Uno fra tutti, un comparto fotocamera incredibile, con una protezione, un'attenzione. Anche alla qualità costruttiva dei telefoni, che al giorno d'oggi non si è più vista. Secondo me si è inseguito molto il lato tecnologico e poco il lato funzionale. Questi telefoni hanno corazzati. Non esistevano le pellicole a schermo. Ma quantomeno non ci interessava. Ancora tutt'oggi non ci sono graffi. Non ci sono i fastidiosi micrograffi che vediamo in controluce. Un altro dettaglio, la protezione della fotocamera. Quante volte adesso si spaccano le nostre fotocamere? Ok, sono in video zaffio? Va bene. Si ricano, si segnano. Perché c'è un otturatore e adesso non c'è più? Perché l'autofocus per alcuni telefoni è ancora così complicato da averlo? Perché non siamo riusciti a fare passi avanti? Insomma, questi telefoni segnavano la storia. Le battere duravano. Erano 100% funzionali, piccoli, compatti. Non ti lasciavano mai a piedi una qualità del segnale incredibile. E adesso abbiamo dei telefoni che fanno tantissime cose e forse non le cose più importanti. Quelle che ci dimentichiamo che ci servono? La portabilità, l'affidabilità e soprattutto la qualità costruttiva. Perché anche all'epoca costavano tanto, ma adesso costano molti 1.500 euro. Quindi, non lo so. Questo telefono, provando, mi ha fatto veramente riflettere. Come nonostante siamo passati 12 anni, secondo me abbiamo fatto per molte cose un'evoluzione. E forse anche di qualche anno in più. Ma per molte altre siamo tornati veramente indietro di 10 anni rispetto a questo. E devo dire che questi telefoni creavano anche un'iconicità nei movimenti e nei gesti. Cosa che oggi un po' si è persa. Risponde. Inizia una telefonata. Chiude. Butta giù una telefonata. O semplicemente come comodissimo antistress. Tanto lui resiste. Guardate com'è granitico dopo 12 anni. Prendete un telefono di 5-6 anni fa e vedete se è così granitico come adesso. O se è dura. Questa è ancora dura. E non c'è un graffio. Ah sì. E condividete il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. O se avete dei telefoni che vi sono rimasti nel cuore. O semplicemente vi sono rimasti nel cassetto perché non si sono mai distrutti. Ciao e alla prossima.